Nella sua terza giornata in Slovacchia, Papa Francesco Iacostice è presso per gli incontri con i fedeli greco-cattolici, la comunità Rom e i giovani. Nel piazzale Mesca Sportovala, Francesco ha presieduto la Divina Liturgia Bizantina di San Giovanni Crisostomo e quindi il primo pontefice a celebrare questo speciale rito bizantino, introdotto dal Santo Arcivescovo di Costantinopoli in sostituzione del rito di San Basilio. Francesco visita in successione una delle comunità più emarginate d'Europa, che è proprio in Slovacchia, e incontrerà i membri della popolazione Rom. L'incontro nel quartiere di Lunik 9, della seconda città più grande del paese, Kosice, è uno dei momenti salienti del viaggio. Lunik ha una reputazione che difficilmente può essere peggiore, un quartiere in cui la maggior parte degli slovacchi non osa entrare.